Sei un lottatore, sei riuscito a tenere i dito per lei negli ultimi metri, si toccava, è stato veramente difficile, raccontaci come è andato gli ultimi giro. Difficile, difficile perché avevo meno batteria di lui, lui mi spingeva, mi toccava, stava provando ad arrivare nel podio e io ho tenuto la linea bene, però sapevo che la batteria era un po' al limite per arrivare, sapevo che nel rettilineo avevo qualcosa, ma non tutto e alla fine questo è quello che mi ha dato veramente piacere, perché è stato tutto il massimo che potevo della macchina oggi e sono molto contento del risultato qua. Prima in conferenza hai dichiarato che vedi un futuro in Femmola E e vuoi diventare campione?